Il carcere è un luogo molto sporco, l'hanno lasciata chiusa, era sotto, come si chiama quel carcere di massimo da sicurezza? Hola! Ragazzi buongiorno, stiamo facendo il bagnetto al prodotto italico perché in carcere. Ieri stavo a Rimini, stasera vado in Salento, secondo te sto male? Secondo me stai una favola. Domenica vado a Los Angeles, secondo te sto male? Secondo me stai proprio una crema. E adesso facciamo questo video perché in carcere le trattano male, hanno messo in carcere massimo di questi misuramenti, era tutta impolverata. E adesso dobbiamo anche riprendere il bagnetto, scusatemi un attimo ragazzi. Mi fa per favore il bagnetto alla piccolina perché questa almera è bellissima, questa almera. Però il prodotto italico me lo snazzichi un attimino, mi fa per favore. Eccolo qua, tutta, guarda come me l'hanno tutta sporcata. Gli si fa il bagnetto, l'hanno trattata male. Guardalo, dai snazzicalo un po'. Me l'hanno lasciata in esulamento per tre mesi, piccolina. E noi gli facciamo il bagnetto alla pechegna. Il prodotto italico, eccolo, vai, vai, snazzicala. Eccolo il bagnetto, e vai. Che cagassi, che lo sto fatto io con lei, come papà e la sua piccolina. E secondo te sto male, fuori dal carcere, via i batteri dal carcere. Cattivissime le complesse, l'ha tenuta segregata. Secondo te sto male, scusate, entra. Grazie. Grazie.